Aiuta a sconfiggere Willow al covo di Willow. Allora vi consiglio di non atterrare direttamente al covo di Willow, ma atterrate qua a Stamberga delle spore, così almeno avete delle armi e probabilmente anche degli scudi. Qua troverete normalmente uno o due forzieri, con molta probabilità trovate anche dei scudi, altrimenti qua fuori troverete anche i barili succosi, distruggete i barili così avete altri scudi. Poi adesso vi dirigete in direzione del covo di Willow. Qua dai funghi normalmente trovate altre armi. Ecco una mitraglietta, poi vi dirigete qua in direzione del benzinaio. Potete saltare anche sui funghi così da aumentare il livello dei scudi. Adesso vi dirigete al covo, vi mostro ancora sulla cartina dove si trova, proprio qua. Allora io vi ho detto di atterrare a Stamberga delle spore. Per il semplice motivo che qua trovate sia i polli zombie, i lupi, in più trovate Willow e anche nemici. Se atterrate direttamente qua e dovete cercare delle armi, adesso tutti quanti inizieranno a fare l'incarico, avrete molti problemi a sconfiggere Willow. Grazie. 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 Grazie.